buona sera iniziamo con Francesco certo ciao Vincenzo buonasera saranno pochi perché sono convinto che per te sono pochi però sono troppo belli perché il gol di oggi meglio di quello che hai fatto contro il Giuliano ti chiedo non dire tanto di raccontarcelo ma come viene fuori pure istinto oppure quando il pallone arriva un po ci pensi la stop e poi la piazzo al volo come cosa succede nella destra di un centro avanti a parte che penso sia il gol più bello che abbia mai fatto nella mia carriera poi sotto la curva del Messina tutto diventa ancora più bello no non ci pensi lì vedi la palla che arriva vedi la porta la prima cosa che ho pensato era stoppo e calcio forte verso la porta ed è uscito un grandissimo gol Alessandro Calleri a darti la palla è stato Rosafio che ti aveva predetto il gol credo da quanto ci ha raccontato infatti ci spieghi un po' sì aveva predetto il gol aveva fatto un'intervista durante la settimana e aveva detto spero che Plescia faccia gol e ne sono convinto che lo faccia e così è stato ho un bellissimo rapporto con Marco Rosafio al di là dell'assist che mi ha fatto sono felicissimo anche per il gol che ha fatto lui e soprattutto sono felice veramente per la squadra Vincenzo complimenti per il gol per la vittoria la prestazione mi dici che cosa c'è in quel sinistro in quel calcio c'è un calciare via ansie preoccupazioni incazzature perché qualcosa poi evidentemente non è andata come speravi in questo girone di ritorno ma è sicuramente qualche gol in più sarebbe stato dico opportuno per me per un attaccante è tutto il gol il gol che ho fatto oggi penso sia stato un gol liberatorio di tutte tutti i momenti difficili che ho passato fino adesso di degli infortuni che magari non sapete che io ho avuto degli acciacchi che mi hanno tenuto un po' lontano dalla miglior forma fisica che io possa avere adesso per fortuna sto rientrando nei miei passi e il gol non poteva che coronare questo traguardo un'altra domanda Villa Davide ciao Vincenzo complimenti per il gol però guardo alla squadra nel senso ai gol che invece non sono stati fatti vi siete un po' complicati la vita nel secondo tempo non tanto per l'atteggiamento perché stavate gestendo anche bene però in avanti forse qualcosa di meglio andava fatto penso che questa sia stata una delle cose principali anche perché abbiamo espresso un gran gioco così sin dal primo minuto del primo tempo anche nel secondo non ci siamo mai tirati indietro abbiamo rischiato davvero pochissime volte loro tra l'altro hanno fatto un gol su pallina attiva sul calcio d'angolo un po' rogambolesco sì magari una cosa che ci possiamo rimproverare è proprio questa magari fare gol quando arriviamo davanti alla porta perché prima o poi lo prendi se non fai i gol dopo che ti capitano tantissime occasioni per fortuna non è stato così e poi c'è da dire anche che magari qualche rigore lo possono pure dare adesso un po' un tocco di mano un po' la tiratina di maglia da parte dell'avversario su di me però sono cose che lasciano il tempo Vincenzo alle porte il derby col Catania se ti ricordi la tua conferenza stampa di presentazione a domanda specifica c'è il risposto sempre fatto con l'Alcatani esaltato la partita del tabellino dei marcatori esaltato la partita di andata ora ti aspetta questo ritorno che è importante per la gente che già vi ha spronato a dare tutto alla fine della partita la cosa più importante adesso prepararci bene per il derby contro il Catania perché a parte che è una bellissima partita da giocare purtroppo penso che i tifosi non possono venire i nostri questa è una cosa che mi dispiace tantissimo nonostante questo comunque prima del gol adesso ti dico che spero di una vittoria di squadra che è quella non che ci serve perché non è fondamentale dato i punti che abbiamo però per il nostro cammino è opportuno che diciamo forse manca un punto per la salvezza matematica archiviando questa salvezza magari poi si può puntare anche a qualcosa di più alto ok grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi